Sì, io ringrazio la federazione per questo ulteriore invito, in questo progetto ottimamente coordinato dal punto di vista tecnico da coach Bifulco, che ripeto ringrazio della possibilità che anche quest'anno mi viene data di poter passare due ore in compagnia di un gruppo di ragazze del 2000 che si sta allenando per affrontare a breve un torneo federale molto importante. Lei è un allenatore con grande esperienza sotto il profilo della guida delle rappresentative maschili, come si calibra un allenamento solitamente magari pensato per ragazzi per la pallacanestro femminile? Se ci sono diversità? No, diversità credo che, cioè dal punto di vista tecnico, tattico secondo me diversità sono minime, forse la diversità può essere logicamente calibrare dal punto di vista fisico, lo sforzo richiesto, l'impegno richiesto. Però dal punto di vista dell'applicazione, della capacità attentiva, le mie piccole esperienze con le ragazze mi insegnano che loro danno veramente tanta soddisfazione. Poi questi sono piccoli step che ci devono portare a vedere se nell'arco di un anno di lavoro le ragazze riescono a migliorare e sono convinto che nel torneo che si andrà a fare avremo sicuramente dei miglioramenti rispetto all'esperienza passata.